E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Il tiro di Petecca e il gol! Trova il vantaggio il Montesacca al 22esimo minuto. E' arrivato con quest'altra parte, Larac, poi Faraone, il tocco di Farone, il tiro di Sorghetti che girà sulla destra il cross di Navarra e il... l'occasionissima! Lontana, arriva il doppio fischio, 134-35esimo, mette al centro Faraone, poi interviene da Simba che trova il pareggio! Giallo e rosso per Larac... Antonio! Antonio! Adesso il secondo palo, verso polvere, la sfonda di testa, il tiro di Cioffi, cinquantesimo, palla sul primo palo, finisce a terra il calciatore di Seline. E' meglio non andare in un dribbling, pallone messo dentro, il controllo, un tipo occasione e palla che attraversa tutta l'area e arriva il triplice fischio. E' meglio! 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 E' meglio!